Torna a Positano la rassegna letteraria Mare, Sole e Cultura ad inaugurarla il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti con il suo libro Il Contrario della Paura. Ettore De Lorenzo. Se la paura prenderà il sopravvento, se non impareremo a fidarci delle istituzioni, del sistema, della giustizia, allora perderemo tutti. Il pensiero del Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti è chiaro e inequivocabile. Davanti ai conflitti epocali che stiamo vivendo tra minacce terroristiche e l'arroganza delle organizzazioni criminali, bisogna rafforzare il proprio sentimento di fiducia nello Stato, altrimenti sarà la stessa paura di ucciderci. Questa volta presento il mio libro che è frutto di 40 anni di esperienze di magistrato e vorrebbe dare una lettura all'interno di certi fenomeni che purtroppo costituiscono altrettante sfide alla civiltà come la criminalità organizzata, il terrorismo. E i traffici di droghe. Roberti ha presentato il suo libro Il contrario della paura inaugurando con Aldo Grasso e Giulio Giorello la ventiquattresima edizione di Mare, Sole e Cultura, la rassegna letteraria che si svolge a Positano. Un'occasione per ribadire che la paura ci allontana dalla verità e ci consegna nelle mani di chi semina terrore e morte. L'organizzatore della Kermesse letteraria Enzo Delia. Riteniamo che Positano ha sempre bisogno di essere al centro dell'attenzione internazionale e logicamente lo facciamo con eventi di tutto l'invievo.